Il sindaco tra procurato allarme e omissione di soccorso. Sempre in fiera ha presentato il piano regionale per l'impiantistica sportiva a cura di asset in collaborazione con il Dipartimento della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, Osservatorio del Sistema Sportivo Regionale e CONI. Diversi milioni di euro stanziati dal governo per la riqualificazione e ammodernamento di impianti già esistenti e la realizzazione di nuove strutture come il palazzetto di Fasano e la piscina olimpionica di Taranto in vista dei giochi del Mediterraneo del 2026.